We're Orchetti, supportatemi tutti quanti come creatore scrivendo il codice OrcouverdeGamer12, tutto attaccato. Supportandomi come creatore avrete l'opportunità di giocare con me su Fortnite. E se volete potete anche inviarmi la richiesta di amicizia su Epic Games, le accetto a tutti. Il mio ID Epic Games è uguale al codice creatore che potete trovare scritto anche nella descrizione. Ciao a tutti Orchetti, sono Orcouverde. In questo video vi aiuterò a scaricare il nuovo pacchetto PlayStation Plus di Fortnite disponibile da questa mattina in Italia. Prima di iniziare Orchetti vi invito tutti quanti a bombardare, distruggere e disintegrare questo video di pollicione in su, commentare e condividere e poi seguirmi sui social. Potete seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram. E se volete potete anche entrare nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. Seguitemi sui social è molto importante per non perdervi nessun video che carico nel canale, visto che spesso YouTube non invia le notifiche dei video. E possiamo iniziare subito! Ovviamente potranno scaricare questo pacchetto solamente i giocatori su PS4, visto che questo pacchetto è esclusivo per chi è abbonato al PlayStation Plus. Senza l'abbonamento al PlayStation Plus sul proprio account PSN non si potrà scaricare questo pacchetto. Per scaricarlo dovete recarvi sul PlayStation Store, poi andare su Cerca e scrivere Fortnite, poi spostarvi a destra e premere X sul primo pacchetto che compare, che sarebbe il nuovo pacchetto celebrativo PlayStation Plus, e poi premere X su Scarica. Fatto ciò dovete uscire dal PlayStation Store, avviare Fortnite, entrare nella modalità battaglia reale e a questo punto riceverete questi tre oggetti gratuitamente, che sono il deltaplano epico Quassiale Blu, la scia Fusione Blu e la schermata di caricamento Squadra d'Assalto, che non sono niente male, però riceverli gratuitamente da Epic Games. E niente rochetti, spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in subbomba, commentate e condividete. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale per diventare un orchetto e poi seguitemi sui social. Trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orco Verde, tutt'ora ci vediamo al prossimo video. Bella!